Ciao a tutti voi da Rasi, benvenuti a questo appuntamento con la nostra vetrina dell'auto e siamo ancora in compagnia di Zappa, come dicevo l'altra volta qui è un posto bellissimo oggi c'è una giornata meravigliosa, il mio consiglio è di venire almeno a dare un'occhiata perché guardate un po' le panoramiche, le guarderete durante la trasmissione davvero un posto splendido e qui abbiamo il responsabile di tutto come dicevamo segui un pochino tutto Stefano, a te Ciao Rosi, ben ritrovati a tutti, siamo qui a Desio presso l'organizzato Zappa punto di riferimento per tutta la Brianza e Nord Milano per la vendita del nuovo delle varie vetture del gruppo FCA, ma non solo, da due anni abbiamo anche l'esclusiva e la vendita di parecchie vetture usate, se volete seguirmi che andiamo a scoprirle bene Rosi ci troviamo all'interno della nostra esposizione meravigliosa grazie, dove tutto il nostro staff è a completa disposizione della nostra clientela nel tentativo di soddisfare qualsiasi necessità qui abbiamo il reparto Alfa Romeo, la vendita della nuova Stelvio tutto il settore del gruppo FCA e al di sopra un bel po' di auto in occasione certo, perché come vedete, sorprendentemente, perché per me è stata una vera sorpresa qui troverete addirittura una scala mobile per salire al piano superiore quindi vendita, chilometri zero aziendali nuovo e anche servizi assicurativi in sé esatto, sì, abbiamo una subagenzia AXA Assicurazione a disposizione di tutta la nostra clientela perfetto, ed ora saliamo? andiamo su? che bello la nostra telecamera sta inquadrando in questo momento quello che gli occhi miei e di Stefano stanno guardando un'esposizione veramente molto ampia, esterna, di vetture d'occasione ma non solo sì Rosi, siamo uno dei centri con maggior parco usato disponibile per il cliente che si continua ad aggiornare giornalmente quindi ogni giorno arrivano nuove vetture e nuove occasioni per i nostri clienti e sono davvero tantissime sì, e poi abbiamo proprio un buon mix di prodotto quindi dalla vettura luxury alla vettura utilitaria o di tutti i giorni certo, quindi se avete l'esigenza appunto di acquistare vetture nuove l'abbiamo visto tutto il gruppo FCA ma naturalmente se avete bisogno di acquistare invece una vettura d'occasione qui troverete sicuramente quella che state cercando perché ci sono circa 600-700 vetture a vostra disposizione direi che il mix è importante e il numero è importante esatto Rosi partiamo da vetture, da piccole vetture da 3.000 euro sempre garantite a vetture fino ai 70-80.000 euro perfetto ed ora direi Stefano di lasciare allora la parola ai tuoi collaboratori così ne andiamo a vedere alcune? direi che è arrivato il momento perfetto, noi ci rivediamo in chiusura di trasmissione grazie a tutti ciao a tutti da Silvio da Massimiliano e da Marco come prima cosa volevo farvi presente che il primo lotto di autovetture che andremo a presentare sono tutte vetture IVA esposta quindi se siete possessori di partita IVA o siete titolari d'azienda queste possono essere le macchine che fanno per voi partiamo subito la nostra carellata con una Land Rover è in particolare modo un Range Rover Sport vetture matricolate nel 2013 dotate di tutti gli optional tetto apribile, cambio automatico, fare lo xeno, navigatore vetture matricolate nel 2013 è un 3.000 gasolio ha percorso 77.000 km questa vettura ve la proponiamo a 38.300 euro presentiamo una bellissima cabrio di casa Mercedes modello SL 350 chilometri 116.000 dotate di tutti gli optional al prezzo di 48.000 euro andiamo in casa BMW abbiamo una bellissima 316 Touring 2.000 turbodiesel anno 2014 la presentiamo a un prezzo di 18,3 Marco prima di presentare la prossima vettura ricordiamo che tutte le nostre vetture sono coperte di garanzia premium 12 o 24 mesi che hanno regolare manutenzione eseguita e con tutta la documentazione da dimostrare alla nostra clientela prosegui pure, grazie perfetto, grazie Stefano proseguiamo in casa Jeep il modello che vi sto per presentare è un favoloso Jeep Compass in matricolazione 2014 allestimento limited è un 4 ruote motrici vettura con navigatore interno in pelle tetto apribile in matricolazione 2014 66.000 km ve la proponiamo a 16.900 euro proseguiamo in casa Lexus con una bellissima NX300H introvabile motore elettrico benzina con soli 27.840 km naturalmente è una macchina dotata di tutti gli optional e comfort al prezzo di 37.300 euro passiamo in casa BMW questo favoloso esemplare è una BMW Serie 1 2.000 di cilindrata matricolazione 2014 72.000 km vettura dotata di tutti i comfort full optional ve la proponiamo a 17.900 euro e con l'arrivo dell'estate vi presentiamo una bellissima Peugeot 207 cabrio rossa fiammante 1.6 turbo diesel al prezzo di 9.300 euro continuiamo la carrellata andiamo in casa Mercedes con una bellissima classe B 180 cilindrata 1.500 km 50.000 full optional al prezzo di 20.900 euro passiamo ora in casa Volvo questo favoloso esemplare è un Volvo V40 in matricolazione 2013 trattasi di un 2.000 gasolio 150 cavalli vettura dotata di tutti i comfort la vettura ha percorso 58.000 km ve la proponiamo a 14.500 euro e ora andiamo in casa Alfa abbiamo una bellissima Giulietta 1.6 turbo diesel con pochissimi chilometri 45.000 anno 2013 la proponiamo a un prezzo di 14.900 euro andiamo in casa Citroen con un bellissimo Grand C4 Picasso diesel auto adatta per una famiglia chilometri 20.000 anno 2016 dotata di tutti gli optional compreso cambio automatico al prezzo di 20.700 euro torniamo in casa BMW bellissima BMW serie 1 116 versione sport full optional la presentiamo al prezzo di 14.700 euro presentiamo un piccolo SUV di casa Audi un bellissimo Q3 diesel 4 ruote motrici chilometri 59.000 anno 2013 dotato di interno in pelle navigatore cambio automatico sensore di parcheggio al prezzo di 27.300 euro proseguiamo la nostra carrellata passiamo in casa Volvo un favoloso XC70 vettura 4 ruote motrici in matricolazione del 2012 è un 2004 gasolio 163 cavalli vettura full optional ha percorso 100.000 km ve la proponiamo a 22.300 euro presentiamo una bellissima Peugeot 2008 diesel anno 2014 ha percorso solo 56.000 km al prezzo di 10.900 euro proseguiamo con una bellissima Peugeot 5008 dell'anno 2014 full optional con pochissimi chilometri la presentiamo a un prezzo di 13.2 passiamo adesso in casa Citroen vi presento un bellissimo C4 Picasso vettura matricolata nel 2015 percorso 63.000 km è un 1.6 gasolio 116 cavalli dotata di tutti gli optional da navigatore il cambio automatico e quant'altro ve la proponiamo a 15.500 euro ritorniamo in casa Audi presentando una bellissima A3 Sportback 2.140 cavalli chilometri 100.000 al prezzo di 13.300 euro andiamo in casa Ford vi presentiamo una bellissima Ford Focus Station Wagon anno 2012 al prezzo di 8.900 euro proseguiamo la nostra carellata passiamo in casa Peugeot vi presento un favoloso 308 matricolazione 2012 la vettura percorso 100.000 km cambio automatico navigatore ve la proponiamo a 8.300 euro eccoci in casa Opel presentiamo una bellissima e introvabile in segna berlina 2.0 di cilindrata diesel 80.000 km al prezzo di 16.000 euro ed ora andiamo in casa Ford abbiamo una bellissima Cougar anno del 2013 pochi chilometri la presentiamo al prezzo 19.500 euro presentiamo un bellissimo SUV di casa Hyundai un modello X35 2.0 di cilindrata diesel chilometri 87.000 full optional al prezzo di 17.000 euro signori buongiorno sono Riccardo Veronesi venditore Alfa Romeo siamo qui a presentarvi le varie vetture disponibili sia usate sia chilometri zero con vasta gamma di Mito di Giuliette vari colori varie motorizzazioni abbiamo anche soprattutto il nostro prodotto di grido che è Giulia piuttosto che Stelvio le ultime nate in casa Alfa Romeo e finalmente ha riportato il marchio nel posto che gli compete nel mercato europeo grazie signori un arrivederci vi aspetto presso i nostri saloni grazie eccomi qua buonasera a tutti io sono Paolo sempre del gruppo Fiat io vi presento un vasto assortimento di tutta la gamma chilometri zero del gruppo Fiat a partire dalla 500 dalla Panda dalla Y dalla 500L 500X dalla Jeep Reneghe chilometri zero immatricolate o 2016 o 2017 a partire da un prezzo da 9.000 euro fino a circa 20.000 euro attenzione molto importante il nostro prodotto chilometri zero è tutto ufficiale italiano e non di importazione e il nostro motto è minima spesa massima resa bentornati da Gerardo e da Riccardo siamo qui per presentarvi una vasta gamma di Fiat Punto e Grandi Punto con varie alimentazioni diesel e benzina e varie immatricolazioni partendo da un prezzo di 5.800 euro Kia Rio del 2015 con soli 11.000 km 8.900 euro due fantastiche Fiat 16 una diesel a 6.200 euro e una benzina a 8.900 euro Audi A6 del 2005 con navigatore a soli 8.300 euro un Chrysler Voyager un 7 posti motore diesel a 7.200 euro Alfa Romeo 159 del 2007 con soli 69.000 km a 5.900 euro una Fiat Chroma benzina del 2008 con 99.000 km a 5.900 euro io sono Davide per chi vuole spendere poco abbiamo anche una vasta gamma di usati a partire da 1.000 euro in su bene Rosi ti chiederai dove ci troviamo siamo di fronte all'ingresso della nostra officina altamente specializzata per tutti i marchi del gruppo FC Auto e Multimarca a vostra più completa disposizione chiudiamo e un grosso saluto da tutti ci aspettiamo si Stefano nel frattempo ci hanno raggiunto tantissime persone sono pensate solo una piccola parte di tutti quelli che troverete qui a vostra completa disposizione quindi grazie a tutti voi grazie a te Stefano e grazie a voi per l'attenzione ciao